Parliamo con Giuseppe Fontanazzi, presidente Fiemme Servizi e vice scario della magnifica comunità di Fiemme. Qual è la sua opinione in merito alla fusione che sta interessando i comuni di Castello Molina di Fiemme e Cavalese? Per quanto riguarda la fusione sicuramente il sottoscritto d'accordo, d'accordo sulla base di aver partecipato in questi anni a diversi momenti di vita pubblica con i ruoli che lei ha appena citato e quindi aver visto anche concretamente quello che si riesce a fare quando i comuni si mettono d'accordo. La Fiemme Servizi che rappresento, come dicevo prima, è sicuramente un ottimo esempio di collaborazione fra i comuni, di condivisione di idee e di progetti e quindi di essere riusciti in Trentino tutt'oggi, siamo un riferimento per la corte ai rifiuti e siamo riusciti a farlo grazie proprio a una visione che gli amministratori di qualche anno fa hanno condiviso e hanno visto proprio come mettersi assieme si riesce a fare qualcosa. Se poi lo vediamo dal lato della magnifica comunità di Fiemme sicuramente abbiamo 900 anni di storia e sono 900 anni di collaborazione fra i comuni che sono di fatto i rappresentati nella comunità con un rappresentante per ogni regola, noi parliamo di regole. Quindi sulla base di questo ma anche sulla base di quello che ormai sono i tempi, lo richiedono i tempi, credo che lo richiedono anche i cittadini, credo che la maggioranza pensi che si debbano trovare delle sinergie, dei modi per gestire problemi che oggigiorno che ci piacciono sono sovracomunali e quindi se sono sovracomunali sicuramente mettere assieme delle energie, mettere assieme più risorse porta a un vantaggio per il cittadino. Non voglio entrare nella questione se si risparmia o no, perché è un tema forse magari sul quale gli stessi sindaci potranno dare qualche numero. Io voglio solo far presente a cosa significherebbe poter gestire questi problemi, l'urbanistica, come le raccolte i rifiuti, come lo sono i servizi in generale. Io parlo anche di servizi di acquedotto per esempio, di servizi proprio pubblici, di servizi verso i quali i comuni sono tenuti a temperare i bisogni dei cittadini, quindi mettere assieme energie ed esperienze anche diverse, perché oggi i comuni tutti hanno maturato dell'esperienza dei propri territori, però riuscire a condividere sicuramente una visione che deve essere portata avanti. Quindi io auspicavo anche a un atto di coraggio che vedesse coinvolti più comuni, perché aveva un senso, lasciamo perdere magari quella di un unico comune, ma almeno un paio sarebbe stata una visione molto forse coraggiosa. Però mi rendo conto che bisogna anche arrivarci un po' alla volta, quindi l'impegno che le amministrazioni di Castello e di Cavalese stanno sostenendo va sicuramente in questa direzione. Se guardiamo la carta geografica già l'Europa è un puntino, se guardiamo la Val di Fiemme a maggior ragione bisogna essere anche concreti e quindi rendersi conto che è giunto il tempo proprio di collaborare, di mettere insieme come dicevo le idee e quindi arrivare anche a delle economie, perché poi questo è un passaggio quasi, ma lo lascerei come risultato, non come bisogna farlo perché serve fare delle economie, bisogna farlo perché i cittadini hanno giustamente diritto a servizi di maggior qualità, servizi di maggior qualità ci sono se si riesce a strutturarli, per strutturarli bisogna organizzare uffici anche con competenze e quindi è chiaro che oggigiorno i comuni piccoli non sono in grado di farlo, quindi bisogna per forza arrivare a queste unioni, quindi benvenga l'unione di Castello e Cavalese come viatico per magari agganciare qualcun altro in seguito.